Silmo cola! Silmo cola! Se ne esce, fai il caffè un po'! Lo so, non lo so Ok, però non lo possiamo salire mo' Come usciamo a calotta Un coating, tre pancassi Ma quando lo dobbiamo scendere per terra, quindi Eh, non dovremmo salire Nel urgo, quindi posso sgaricare la gas Allora, non lo so Quindi calcinacci qua E metci un rato rato Un po' Sì Sì Eh, lo leggo, sette otto sacchetti Sì Mi hanno fatto sette otto sacchetti di leggo Quelle per impastare lo cemento Allora, venga fatto un viaggio, un roto, un argile Che stai ci vuoto Un botto sinistra, una botto avanti Eh, non fai stasso aiutato, stai qua Papà? Un argile, che ci fai? Bella grande? Sì Allora, moto, la svolta e l'arghile, l'arghile Ora facciamo la mano, poi c'è altro C'è un str Issac Non la testa No, attra Oh, vai dentro la porta, si fa calma, si, guarda, ah, andate, andate piano piano, qui c'è un sette termini, si, sono, siete le ore di per me, si, perché è il posto, oh cazzo, vabbè, si, io li ho senti, potrei prendere, io li ho senti, potrei prendere, io li ho senti, perché non gli va bene, se me lo faccio un attimo, che gli domando una cosa, il barretto, il barretto, il barretto, la merda, tutto quanto era 20, giusto, quindi noi l'argilla facciamo 120 piano finito. Davanti, 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 boh, sinistra, 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 vabbè, vai, vai. että Noi, 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 noi O, faire eso Noni, noni, noni Noni, 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 noni Noni, 11, Wilco, oh,대 Ma che uno, ma che uno O, no, no ma che fisho ferma gió 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 faccala e non è fatti niente non ci conosci vai avanti dai dietro destra vai ahhh c'è un po' faccala se non poter il rail poco poco oh faccala non c'è non c'è guarda c'è non c'è non c'è avanti si si no faccala avanti oh andiamo a portare la red ferma ora fino dai però proviamo a mettere pieno secchione appunto vi sai quali non c'è si 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 non c'è 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 no sinistra vai un po' destra vai un po' destra va si 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 e allora fammi i piatti e preparami un caffè e roger non ho capito n non c'è non c'è non c'è